Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca. Un 59enne in gravissime condizioni è stato letteralmente scaricato nella camera calda del pronto soccorso del San Donato ed è morto poco dopo. L'automobilista che lo ha portato in ospedale si è subito dileguato senza lasciare traccia di sé. È stata disposta oggi pomeriggio l'autopsia. Chiara Salotti. È stato lasciato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo nella cosiddetta camera calda, ovvero tra il primo e il secondo ingresso, in gravi condizioni, cianotico e già privo di sensi. Poi chi l'ha accompagnato l'ha abbandonato a terra e se ne è andato. Immediato l'arrivo dei sanitari, ma per l'uomo un 59enne a retino non c'è stato nulla da fare. È successo lo scorso martedì a stroncare l'uomo, probabilmente l'uso di sostanze stupefacenti, ma per accertarlo sarà necessaria un'autopsia. Della vicenda si sta occupando la polizia di Arezzo, che ha già identificato l'uomo con precedenti penali. Adesso le indagini per scoprire chi lo abbia abbandonato al pronto soccorso e quali siano state le cause della morte. Fondamentali saranno gli esiti dell'autopsia, che sarà disposta a breve, e le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. È finito in manette un uomo di origini ganesi. Ieri pomeriggio gli operatori di polizia della squadra volante, diretta dal vicequestore Marco Gallorini, durante un'attività mirata alla repressione dello spaccio di stupefacenti nell'area di Campo di Marte ad Arezzo, hanno notato il tentativo dell'uomo di nascondere un marsupio. Insospettiti dal gesto, gli agenti hanno eseguito un controllo, scoprendo che all'interno del borsetto c'era un calzino con 14 ovuli di euroina, avvolti in cellofan trasparente per un peso totale di 306 grammi, e di un altro involucro trasparente contenente ascisce del peso di 1,65 grammi. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto. L'uomo è adesso ai domiciliari. Sono stati derubati di tutto ciò che avevano, maglioni coperte per scaldarsi nelle fredde notti d'inverno, vittime del furto due clochard. È successo questa notte ad Arezzo, attorno alle ore 23, i tre volontari del turno di emergenza urgenza della Croce Bianca di Arezzo sono stati svegliati dai due senza tetto, derubati dei loro pochi ma essenziali averi. Le vittime sconvolte hanno bussato la porta della sede della pubblica assistenza in lacrime. I volontari dei nottambuli si sono così attivati e in un'oretta sono riusciti a recuperare maglioni coperte prontamente consegnate ai due derubati. sconforto e proteste dei cittadini sui social per le lunghe liste d'attesa per ottenere prestazioni sanitarie. E i numeri danno loro ragione. Grazie a Settimelli. Prenotazioni CUP, primo posto libero per una visita del controllo tiroide maggio 2025, no comment. E ancora, per un RM al ginocchio all'ospedale non sono stati in grado di darmi una data. Corre sui social la protesta dei cittadini in merito ai tempi di attesa per visite e prestazioni diagnostiche nella sanità pubblica e in particolare nell'ASL Toscana Sud-Est. Vale la pena, allora, in merito analizzare i dati riportati dal portale di monitoraggio dei tempi di attesa della regione toscana. Nella nostra ASL, in particolare ad Arezzo, per i codici di priorità assegnati dai medici, urgente e breve, ovvero entro le 72 ore o comunque al massimo entro 10 giorni, la percentuale di richieste soddisfatte nei tempi previsti è molto alta. Le note dolenti, come segnalano i cittadini, è quando il codice di priorità invece diventa differibile, ovvero entro 15-30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti, o programmata da eseguire, cioè entro 120 giorni. In queste due casistiche, sia le visite che le prestazioni diagnostiche, non tutte ovviamente, presentano molti rossi, ovvero percentuali di soddisfazione della domanda molto al di sotto degli standard. Tanto per fare un esempio, per una risonanza magnetica programmata, cioè entro i 120 giorni alla colonna vertebrale ad Arezzo, i giorni di attesa sono 151, 101 i giorni di attesa per un codice differibile, cioè da eseguirsi entro i 60 giorni, l'attesa dunque è quasi del doppio. Male anche per le visite ginecologiche, anche queste con codice differibile. Nella zona retina si toccano i 53 giorni di attesa, in Valdiverina addirittura diventano 146, in Valdarno 120. E ancora per una visita dermatologica in Casentino si attendono 245 giorni. Insomma, una situazione, secondo molti cittadini, davvero inaccettabile. E ad Arezzo, Piazza Giotto cambierà volto, presentato il progetto per la riqualificazione dell'area davanti alla Chiesa del Sacro Cuore. Sentiamo. Ecco la nuova Piazza Giotto ad Arezzo, presentata alla cittadinanza in un incontro pubblico nel Salone della Chiesa del Sacro Cuore. Un intervento che riqualificherà l'intera zona, la fontana verrà rimossa, ci saranno interventi sul Sagrato, sulla piazza centrale, sul sistema del verde, le aree drenanti, il tutto per una piazza versatile ad uso polifunzionale, dai mercati ad uno spazio ludico. È un progetto che rispecchia quelle che sono le peculiarità di questa piazza, quindi la parte collegata alla parte religiosa e questo quindi con un intervento rivolto a quello che è il Sagrato della Chiesa, con materiali anche di pregio, che poi si innestano su questa piazza che diventa civile, e quindi con il collegamento a quelli che sono i condomini che si affacciano sulla piazza, mantenendo un'unità che poi dopo riguarda l'intero intervento. La riqualificazione dell'area passerà anche da un altro importante progetto, il trasferimento della Mensa Caritas agli spazi della ex caserma Piave. I lavori nella nuova piazza avranno inizio tra la fine del mese di aprile e i primi di maggio. L'importo complessivo del progetto finanziato con fondi PNRR ammonta a 1.523.000 euro. Abbiamo utilizzato il materiale per l'eccellenza, quindi il travertino, perché riguarda il Sagrato. Nella piazza abbiamo inserito una pietra alberese che avrà poi dopo queste liste che partiranno dal Sagrato e arriveranno in travertino fino dentro la piazza, quindi anche i materiali sono stati utilizzati, materiali di pregio appunto. E proprio in occasione della presentazione di questo progetto, il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti ha annunciato anche il trasferimento della Mensa della Caritas. Il luogo è stato individuato in via Garibaldi, nelle strutture dell'ex caserma Piave. Tutto questo avverrà entro la primavera del 2026, la piave verrà trasformata in ristorante solidale con creazione anche di una residenza che potrà accogliere fino a 25 persone. Tanti spiega che ci saranno anche docce, lavanderie ed ufficie. Tra i partner della gestione di questi spazi, oltre alla Caritas, ci sarà la fondazione Federico Bindi. Un laboratorio multilingue per stranieri è stato organizzato dall'associazione ACB Social Inclusion nell'ambito del progetto Scuola in Azione. Chiara Sadotti È importante che ognuno di noi, a partire ovviamente dalle giovani generazioni, però anche gli adulti chiaramente possano sentire che la propria appartenenza linguistica è un valore. Il 21 febbraio si festeggia la giornata internazionale della lingua madre, evento istituito dall'UNESCO che ogni anno celebra la diversità linguistica e il diritto di tutte le persone a potersi esprimere nella propria lingua del cuore. Perché è vero che è importante imparare la lingua del paese dove si vive, perché ovviamente è la base per poterci vivere. Però è anche importante che a casa si possa continuare a portare avanti le proprie tradizioni, i propri valori e anche ovviamente la propria lingua con i propri figli. Come ogni anno l'associazione ACB Social Inclusion celebra questa giornata con un evento pubblico. nella biblioteca Paolo Polezzi della scuola 4 novembre un laboratorio di storytelling multilingue rivolto in particolare alle madri degli alunni stranieri. Creeranno insieme una storia in cui ognuno di loro farà un pezzettino di questa storia ciascuno nella propria lingua del cuore. che poi ecco io dico più che la lingua madre. Quindi ci sarà chi racconta una frase in bangla, chi in italiano, chi in urdu, chi in indi, insomma seconda poi della propria appartenenza. E noi poi lo metteremo insieme, pubblicheremo poi questa storia nei prossimi giorni, insomma il tempo di metterla insieme. Un evento inserito nella cornice del progetto Scuola in Azione grazie ai fondi 8x1000 della Chiesa Valdese che ha finanziato anche il video Obiettivo Scuola realizzato dalla videomaker a retina Laura Pascu per raccontare le attività svolte e quelle in cantiere nelle scuole della provincia di Arezzo. Racconta proprio tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni nel quartiere, ma non solo, insomma nelle scuole in realtà poi della provincia, sempre col filo conduttore dell'inclusione sociale e ovviamente anche linguistica dei ragazzi. Sono le attività, tutte gratuite per l'utenza, attraverso le quali ACB Social Inclusion persegue l'obiettivo di una società più attenta ai bisogni individuali, in cui ogni persona possa far emergere le proprie risorse e valorizzare le proprie competenze. Al liceo Francesco Redi si è parlato di geopolitica insieme agli studenti. La lezione di educazione civica è stata tenuta da Matteo Giusti. Il servizio. La geopolitica è al centro del nuovo incontro della scuola di formazione civica Arezzo, un progetto nato da un'idea di Stefano Tenti, presidente dell'associazione Fratevere e Arno. Oggi si parla di geopolitica, di quello che succede nel Mediterraneo, il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, che è stato definito allargato perché comprende anche il Mar Rosso e il Corno d'Africa. L'Italia ha un ruolo importante, forse se gli italiani ne avessero maggior consapevolezza avremmo più orgoglio di essere italiani. La geopolitica del Mediterraneo allargato, il ruolo dell'Italia e dell'Europa a cavallo fra Asia e Africa, il titolo della lezione di Matteo Giusti, giornalista esperto di geopolitica e grande conoscitore del continente africano di fronte agli studenti del liceo scientifico Redi. Io credo che la geopolitica, di cui mi occupo da tanti anni, che per molti anni sembrava una cosa così lontana, arriva nelle case di tutti perché in realtà il mondo si muove talmente velocemente e gli equilibri globali cambiano che è importante che fin da giovani, giovanissimi, comincino a capire quello che gli succede. Quindi cercherò, dopo una barbosa però necessaria infarinatura iniziale su che cos'è la geopolitica e che cos'è il Mediterraneo allargato, prometto di essere il più veloce possibile, cercherò di parlare di fatti concreti, di quello che vedono accadere tutti i giorni, sia nei telegiornali, nei giornali, ma anche sui social ormai, perché abbiamo visto quello che anche nel nazionale popolare arriva la geopolitica, quindi i conflitti, gli equilibri, quindi cercherò di riportarli alla vita di tutti i giorni dei temi che in realtà spostano l'asse globale mondiale. Le lezioni di educazione civica proseguono così, con successo. Sono sempre molto partecipi e soprattutto gli insegnanti poi ci lavorano in classe. Nel liceo preferiscono dare un'idea di quello che è, però di lavorare dopo la conferenza, anche con il materiale che magari lascia, se sono slide o appunti, il relatore. E quindi se il mondo fuori non entra nella scuola, la scuola non è al passo coi tempi. E la puntata integrale di questo incontro andrà in onda questa sera, proprio dopo il nostro telegiornale. Andiamo al teatro, perché Stefano Massini, drammaturgo teatrale in scena ad Arezzo, con lo spettacolo di prosa L'interpretazione dei sogni. Chiara Sadotti ed Edoardo Carrai. È accaduto esattamente una settimana dopo che io sono sceso dal palco del Teatro Ariston. Quindi proprio tutto questo, devo dire, mi ha colpito molto. È stato come la demonstrazione di cui non c'era bisogno, di quale emergenza stiamo parlando e di quale dramma tutti i giorni si compia sui nostri luoghi di lavoro. Stefano Massini lo aveva gridato e cantato dal palco del Teatro Ariston a Sanremo, assieme a Paolo Iannacci, con una canzone per denunciare le troppe morti sul lavoro. Un tema oggi più che mai attuale dopo la strage di Firenze. Una cosa che deve essere bloccata, la politica deve fare tutto ciò che può fare e attualmente non fa. Stefano Massini, tra i più importanti drammaturghi del nostro tempo, ad Arezzo ha portato l'interpretazione dei sogni, nuovo appuntamento con la prosa al Teatro Petrarca. Un ultimo step di un lavoro decennale iniziato nel 2008. Una mattina, intorno al tavolo rotondo della colazione, Matilde, quattro anni, la figlia di Freud, se non c'è fuori davanti a tutti, il mestiere di suo padre era guardare dentro la testa della gente. Sì, lo so, tu entri dentro la testa della gente, tu ci entri dentro da un occhio, come a Nancy. Uno spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, una discesa alla scoperta del sogno che implica la necessità di guardarsi dentro per scoprire una parte di noi sempre in ombra, ma interpellata, ma che torna prepotentemente nel mondo onirico. Il sogno è un discorso sottovoce nella stanza ova abitata di te stesso. Sfugge allo sguardo altrui, non vuole essere capito, compreso, e se teme di esserlo, muta forma. Stefano Massini è stato il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Award, l'Oscar del teatro americano. Ho questo rapporto di grandissima riconoscenza. Poi il teatro come viene fatto in America, devo dire, a me piace molto. Io ho avuto più testi miei rappresentati negli Stati Uniti, devo dire, è molto bello. E andiamo allo sport con l'Arezzo. Venerdì torna in campo la squadra Maranto in casa della Spal alle ore 20.45. La vendita dei biglietti per il settore ospite però da ieri è bloccata. Lo ha deciso l'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive inserendo la partita di Ferrara tra quelle che necessitano ulteriori approfondimenti riguardo all'analisi dei rischi connessi. La questura di Arezzo ha segnalato nella gara d'andata il grave comportamento posto in essere dai tifosi aretini con riferimento a un tentativo di contatto con i tifosi biancazzurri. La decisione definitiva è attesa per giovedì mattina quando è convocata la riunione del gruppo operativo di sicurezza. La prevendita però, salvo posticipi, potrebbe giovedì chiudere alle ore 19 quindi non consentendo grande possibilità ai tifosi di poter acquistare i tagliando visto che c'è poco tempo per organizzarsi. Per quello che riguarda invece la squadra, indiani potrebbe rimescolare le carte ancora una volta, le certezze sono Trombini in porta e Gucci e Pattarello davanti. Per il resto ogni reparto la concorrenza è serrata. In difesa Donati dovrebbe riprendere il suo posto a destra, così come al centro Chiosa reclama una maglia. Non escluso il coinvolgimento di Montini e Coccia, ormai pienamente ristabilito in mediana, potrebbe tornare Mavuli. Guccioni e Settembrini si candidano dopo la ultima panchina. E andiamo a Montevarchi perché è notizia di queste ore, oltre che l'esonero di mister Simone Calori, il nome del nuovo allenatore che sarà Loris Beoni, classe 1958 di grande esperienza in Serie D con la San Sovino, San Benedetti e Rieti, oltre a Caratese e Bastia. Beoni debutterà domenica prossima a Poggi Bonzi, Montevarchi è attualmente quinto ultimo in classifica in Serie D con 24 punti dopo 23 giornate. Concludiamo con il rally perché si avvicina l'appuntamento con l'historic rally delle Vallate a Ritine con l'apertura del campionato italiano rally autostoriche in programma venerdì 1 e sabato 2 marzo in provincia di Rezzo ad analizzare i chilometri delle 8 prove speciali disegnate da Scuderia e Truia Sport e Matteo Musti, vincitore dell'edizione 2023, nonché campione italiano in carica. Numeri importanti, quelli fatti registrare dagli organizzatori nelle fasi di avvicinamento all'evento con iscrizioni che sono state prorogate fino alle ore 20 di domenica, 25 febbraio, per dare modo agli equipaggi di espletare le formalità e presentarsi alla gara. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV.